Una promessa mantenuta, la Giunta Acquaroli e il suo insediamento aveva promesso grande impegno e grande attenzione verso i nostri piccoli centri, senza alcuna distinzione tra grandi e piccole realtà, tra nord e sud della regione, tra costa e dentro terra. Oggi comunichiamo all'amministrazione comunale di Borgo Pace l'assegnazione tramite un bando di un milione di euro circa per il rilancio di questo territorio, partendo da uno dei cuori delle civiltà, delle nostre comunità, laddove sono sorte città, comunità, borghi, come qui a Borgo Pace. La confluenza tra due fiumi, il Meta e l'Auro, che formano poi uno dei più importanti corsi d'acqua della nostra regione, il Metauro, che sfocia sull'Atriatico nella città di Fano. E allora abbiamo premiato con il fattore Q, il fattore qualità, un progetto innovativo, un'idea nuova che vuole proiettare anche Borgo Pace, uno dei più bei e piccoli centri della nostra fascia subappenninica, verso il futuro, verso il rilancio che i nostri borghi meritano. E' proprio qui un posto simbolico che non è soltanto la confluenza fra il Meta e l'Auro, laddove nasce il Metauro, ma qui dove si incrociano quattro regioni italiane fondamentali per lo sviluppo del centro Italia. Non solo le Marche, ma qui vicino abbiamo l'Umbria, la Toscana e l'Emilia Romagna. Da qui deve rinascere il centro Italia, da qui devono rinascere i nostri borghi, da qui finalmente deve ripartire anche quella Fano Grosseto, ossia quella infrastruttura che è precondizione di sviluppo, che deve trovare anche i nostri borghi pronti e attenti ad accogliere quel turismo che auspichiamo anche nelle fasce interne dei nostri territori. Oggi per Borgo Pace è veramente una giornata che rimarrà nella storia, perché penso che un milione d'euro per pensare al nostro futuro e alla ricostruzione di quelle che sono le zone più importanti per la nostra comunità, ma anche per il nostro turismo, quindi per poterci presentare bene non è cosa da tutti i giorni. E tanto più se questo contributo viene da una regione che certe volte abbiamo visto assente e che invece mai come in questo momento sentiamo vicine. Quindi veramente un grazie di cuore alla giunta a Quaroli, in modo particolare all'assessore Baldelli, perché con questo bando ha dimostrato di conoscere bene l'entroterra, ma noi questo lo sapevamo, ma soprattutto di avere le idee giuste per garantire la sopravvivenza, ma anche un futuro rosio dell'entroterra stesso. È attraverso una progettazione congiunta, quindi una partecipazione reale delle istituzioni che possiamo garantire il futuro a questi territori. E questo veramente ne è una best practice che sono certa che lascerà il segno nel tempo. La valorizzazione dei nostri borghi parte da Borgo Pace, ma rigva a Mercatello, dove la regione Marchi ha riconosciuto al progetto della comunità locale circa un milione di euro per valorizzare uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche Bandiera Arancione. Una perla del nostro entroterra, ai piedi del Pennino, ai confini con le regioni del centro Italia. Mercatello è un simbolo per le Marche, lo è per la Fano Grosseto, lo è per questa voglia di riscatto delle nostre comunità, per questi borghi che possono diventare borghi europei come stile di vita, uno stile di vita in mezzo alla natura, nelle bellezze architettoniche. Io alle spalle ho il polo e la chiesa di Santa Veronica Giuliani, di fronte a me ho il polo musuale di San Francesco. Questa è l'area che l'amministrazione comunale ci ha chiesto di valorizzare, con questo milioni di euro che sarà a disposizione dei migliori architetti e ingegneri d'Italia che con noi collaboreranno per presentare il migliore progetto di valorizzazione di questo centro storico bellissimo che è un simbolo per tutta la nostra regione. Una bellissima notizia che è importantissima per la comunità di Mercatello, per tutti i mercatellesi. Le certificazioni che abbiamo, la Bandiera Arancione, i borghi più belli d'Italia, hanno fatto sì che questa rete ci abbia dato la possibilità di andare avanti e di crescere sempre di più. Ringrazio la regione per questo bando, per l'attenzione che ha avuto per i piccoli borghi e noi abbiamo fatto in questi vent'anni di Mercatello, abbiamo cercato di ristrutturarlo, di preservarlo e qui dietro alle mie spalle abbiamo il museo, la chiesa di San Francesco che è il gioiello di Mercatello dopo la piazza. Siamo veramente orgogliosi, speriamo di andare avanti, di continuare così e di rimanere in questa rete che per Mercatello è molto importante.